Questa è una storia di ordinaria violenza, perché certe cose inconfessabili come l'abuso sui minori, devono rimanere nascoste, perché soprattutto quando avvengono in famiglia, la botta nelle migliori famiglie, ciò potrebbe rovinare la reputazione. E allora vogliono parlare. Invece io lotterò perché questi orrori possano essere venunciati, questi orrori che si consumano per strada, nelle case e nelle chiese. Grazie.